Da sempre per Davines la sostenibilità è al cuore del progetto. L'azienda ha sempre posto al centro la sostenibilità come tema e come valore fondante dell'azienda stessa. Lo si ritrova nelle linee dei prodotti che l'azienda ha sviluppato nel passare del tempo. Cito ad esempio la linea Essential, la linea Care Essential, che va ad utilizzare prodotti, ingredienti attivi che derivano dai presidi di Slow Food italiani, ma sostenibilità intesa anche come attenzione verso l'ambiente, la comunità. Di conseguenza cito i progetti, ad esempio Etiotrice, piuttosto che le campagne Sustain Beauty o Tuteliamo il mare, che l'azienda in maniera concreta porta avanti un po' in tutto il mondo.